Bentornati al Tama Diario sul Tamagotchi V4, V4.5 e Music Star dei Tonke V6. Allora, cominciamo subito. Mi scuso per la latitanza in questi ultimi giorni, ma sono stata impegnata e poi ho avuto problemi con il computer. Vabbè, a parte questo. Qui abbiamo il V4 con Evan della quinta generazione, che non sono stata capace di alzare di molto le sue abilità. Comunque quella che mi interessava era l'abilità intellettuale e l'ho alzata fino ai 100, per cui spero che basti per un buon lavoro. Non ha ricevuto posta, almeno non ancora, per cui cosa possiamo fare? Facciamo che ci colleghiamo, che ci connettiamo, scusate, un attimo con il V4.5. Però il V4.5 ha ricevuto della posta. Vi ricordo che lui è Alex, prima generazione, entrambi sono diventati adulti oggi. Per cui questa è la loro forma adulta. Lui è Evan. Molto carino, è la prima volta che ha questo personaggio. E lui è Alex. Sono molto carini i personaggi del V4.5, perché pur essendo molto simili a quelli del V4, comunque hanno le loro particolarità. Sono un attimo diversi. Allora, andiamo a vedere cosa ha ricevuto di posta. Abbiamo una lettera. R dei Tamagotchi. Vediamo cosa ci lascia oggi. Perché quando c'è lui sicuramente ci lascia qualcosa di bello. Un regalo. Un cuore. Grazie mille. Alex è molto felice. Bene. Alex, vediamo le sue statistiche. Dato che fin da subito ha cominciato ad inalzare il suo livello di abilità spirituale, allora ho detto, vabbè, giochiamoci questa abilità spirituale, vediamo che lavori potrà fare. Comunque ancora non ho ricevuto comunicazioni che mi invitano a colloqui di lavoro. Per cui, forse domani. Vedremo, vedremo. Allora, colleghiamo questi due, che hanno appena cominciato a conoscersi, non sono ancora amici, nel vero senso della parola. Con Jinsei, V4, V4.5, facciamo un gioco. Vediamo che gioco è. Un gioco in cui si vincono 200 punti. Vediamo chi vince. Oh, che carino. Bello che uno gioca con l'ufo, l'altro con l'elicottero. Eva non ha perso, Alex ha vinto. E quindi lui si becca 200 punti. Che è una cosa buona, perché con Eva non ho un sacco di punti, con Alex, dato che è la mia prima generazione, no. Per cui questi punti mi serviranno sicuramente. Allora, forse ho qualche oggetto nuovo da provare. Vediamo. Ho un cesto dei tesori. Vediamo cosa c'è dentro. 4.000 punti addirittura. Siamo ricchi, Alex. Ed è contento, beh. Vorrei vincerli io, coi soldi. Con Evan, vediamo se c'è qualcosa di nuovo da scartare o da scoprire. Ho un cd, ma mi serve lo stereo, per cui non potrò usarlo, però un bel po'. Quante matite ho? Ho da pescare, ho una tromba e basta. Allora peschiamo. Tattadam, 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 peschiamo. Che faccia fai? Mi scuso per i riflessi. Non metterci tre ore a pescare, eh. Anche poi dobbiamo andare dal Music Star. Pronto? Forse ci siamo. Ma ha pescato un pesce. Ma è buono? Sarà buono da mangiare? Eh, non voglio scoprirlo ora, per cui andiamo subito dal Music Star. Asia. Vi ricordo che si chiama Asia, è una femmina prima generazione. Devo dire che questa tipetta mi ha dato da lavorare in questi giorni. È abbastanza complesso il Music Star. Allora, prima di tutto puliamo la cacca e poi andiamo a vedere cosa abbiamo ricevuto. Perché il punto esclamativo sopra la testa e l'icona della porta illuminata vuol dire che c'è posta. Vediamo chi è, cosa vuole e perché. Oh, è il re dei Tamagocci. Oggi fa un sacco di visite questo re, è un po' ovunque. Yeah, ci ha lasciato un regalo. Mi ha lasciato del latte. È uno snack, grazie mille. Non gliene compro di snack perché per ora voglio evitare di sprecare i soldi che non ho. L'unico modo per farle guadagnare i soldi, adesso che è adulta, ve la faccio vedere da vicino, è Mimici come personaggio. L'unico modo che ho per farle guadagnare i soldi è mandarla a lavorare in questa fase, che non ha ancora un contratto con una casa discografica perché per due volte non sono riuscita a passare la giuria. L'unico modo che ha per guadagnare dei soldi è appunto andare a lavorare. Magari vediamo uno dei due lavori. Allora, questa è la sala prove dove si esercita con la sua band e dopo devo sicuramente farla esercitare. Questi invece sono i due lavori. Uno è la fabbrica di dolci e l'altro è un magazzino, penso, di frutta. Vediamo il magazzino della frutta. Non è facilissimo come gioco, è abbastanza impegnativo e se non vince del tutto si stressa. Per cui è abbastanza realistico sotto questo punto di vista. Ah no, c'era già. Non sarà facile farlo attraverso il cellulare, comunque ci proviamo. Datemi una pera. Pera. E' difficile soprattutto quando ne arrivano due identici, nello stesso punto bisogna farli combaciare. Come in questo caso. Solo una volta ho vinto questo gioco. Però una volta che si vince, si vincono tanti punti. Penso di averne vinti una cosa come 600. Per cui è un buon modo per guadagnare soldi se non si ha ancora un contratto con una casa discografica. Ma è abbastanza impegnativo perché comunque stressa. Per cui o si è allenati a giocare o appunto il personaggio si stressa. E lo stress è una novità ed è solo di questo tamagotchi. Vediamo se troviamo... Un buon rapanello, non so cos'è. Non ho mai capito. Non ho mai capito. Riusciamo a vincere per favore. Interessante. e due rapanelli ah perché non so cos'altro possano essere qua abbiamo una sfilza di pere ah però il punteggio è buono vediamo quanto abbiamo vinto 350 punti non male allora vi presento la sua band che sono dei personaggi che ha incontrato a scuola infatti il primo giorno di scuola si forma la band con altri due personaggi a caso che poi crescono e diventano adulti insieme al vostro personaggio e in questo caso fanno musica e r&b li ho chiamati Asian team come potete vedere cioè Asian trio Asia è la chitarra Penny è un nome dato a caso dal gioco l'altra ragazza è sempre la chitarra e il ragazzo David è la fisarmonica perché per ora ho solo disponibile o la fisarmonica o la chitarra come strumenti musicali per cui bene direi che questo per oggi è tutto se no ci dilunghiamo troppo vi ringrazio ancora per l'attenzione mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di questo tamadiario perché a me sembra interessante comunque carino giocare con tre e farli vedere tutti contemporaneamente come si evolvono comunque fatemi sapere nei commenti mi raccomando fate domande se ne avete mettete un mi piace se vi è piaciuto questo video vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata a tutti ciao